Cari amiche e cari amici, è molto importante comprendere la natura della mente. La mente non è una nostra nemica, l'ho detto tante volte nei video. La mente diventa un problema quando è causa del pensiero compulsivo, questo pensiero ossessivo, che ha come caratteristica il caos delle associazioni di idee totalmente incontrollate. Ma in realtà la natura intrinseca della mente è pura. Che voglio dire? Che la mente non è un'unica entità fatta solo di difetti mentali, di pensieri disturbanti, di pensieri che frammentano la realtà. Tutti quei difetti che sono legati alla nostra mente, come l'egoismo, l'ignoranza, il senso di colpa, l'attaccamento e tutti gli altri pensieri che disturbano, in realtà sono temporanei. E questi pensieri disturbanti sono all'origine della nostra sofferenza. E siccome questi pensieri sono temporanei, anche la nostra sofferenza è temporanea. La mente, inoltre, non è una realtà così concreta come avvertono, ad esempio, le persone che non meditano. Perché? Perché la mente non ha in realtà una sua esistenza indipendente, nel senso che non ha una sua esistenza intrinseca. La mente non esiste in modo autonomo. La mente, dunque, può essere la fonte della sofferenza e dei problemi, ma la mente, se ben armonizzata, ci aiuta a liberare noi stessi dal dolore. Ci aiuta a liberare noi stessi dalla sofferenza. Perché, ripeto, il problema non è la mente in sé. Sono le compulsioni, è una mente incontrollata, è quella che dà il problema. Quando ci liberiamo dalle cause della sofferenza, e dunque dentro di noi cominciamo ad avvertire questa armonia interiore, allora vuol dire che ci stiamo dirigendo verso il centro. E allora, se sappiamo le dinamiche della mente, se conosciamo le dinamiche della mente, che possono essere estremamente distruttive, come una mente incontrollata, come la mente di un assassino che viene colto da un raptus improvviso, la sua mente è totalmente incontrollata a quel punto. Per cui anche le sue azioni sono totalmente incontrollate. Ma la mente non è, ringraziando il cielo, non è solo questo. Questo è un aspetto di una mente totalmente incontrollata. Ma la mente ha anche delle grandi potenzialità che possono aiutarci nel cammino della conoscenza. Anche ascoltare questo stesso video, voi che state ascoltando, lo filtrate attraverso la mente. E questo poi, ascoltare il video, metabolizzarlo, interiorizzarlo, aiuterà poi durante la pratica, quando magari si manifesteranno determinate situazioni interiori, a saper gestire meglio. Così, conoscendo la mente e sapendo che possiede anche queste grandi potenzialità costruttive, noi non dobbiamo avere un atteggiamento negativo di fronte alla mente. Perché, poi ripeto, i problemi sono sempre transitori, perché i pensieri sono transitori. Quindi non è che noi, in realtà, sperimentiamo dei problemi per l'eternità. E allora sta a noi poter sviluppare anche questa conoscenza della mente e dirigerla in un certo modo. Dobbiamo semplicemente trovare il modo corretto per utilizzare il potenziale della nostra mente. Mente e corpo. Se leggiamo autori diversi, filosofi diversi e così, troviamo anche diverse concezioni della mente, ma non dobbiamo farci confondere. Mente e corpo, in realtà, sono due fenomeni separati, anche se sono strettamente collegati. Pensiamo, ad esempio, all'effetto placebo. La convinzione, si prende una medicina che in realtà, magari, non è uno sciroppo, è semplicemente dell'acqua colorata e quella lì agisce come strumento di guarigione, semplicemente perché la mente è convinta che quello è uno strumento di guarigione. E allora, sì, mentre il corpo sono due fenomeni separati e collegati nello stesso tempo, la mente è colei che ci permette di percepire gli oggetti, il mondo esterno, ma questi oggetti appaiono riflessi come in uno specchio. E la mente è in grado di percepire questi oggetti. Il nostro corpo è composto di materia. La mente no, la mente è priva di forma, la mente è priva di colore, non ha un suo aspetto ben delineato. Però attenzione, perché la conoscenza della natura della mente è un tema molto importante, soprattutto per noi ricercatori. Ed è un tema anche molto più ampio rispetto alla conoscenza della natura, dei fenomeni esteriori, di tutto quello a cui si dedica, ad esempio, la scienza. Il punto è che se noi non comprendiamo la natura della mente, non avremo mai la possibilità di apprendere correttamente la natura di tutti gli altri fenomeni, che è una natura convenzionale, poi, in realtà, come vedremo. Anche dal punto di vista del nostro vissuto quotidiano, è grazie alla mente che noi possiamo entrare in relazione con i fenomeni esteriori. Bene. non esclusivamente, ovviamente, con la mente, però è uno degli strumenti, anzi, per la persona comune è lo strumento principe con cui entra in contatto con il mondo esteriore, insieme ai sensi. Comunque, conoscere la mente vuol dire anche cominciare a risolvere i nostri problemi, perché i nostri pensieri e azioni negativi lasciano delle impronte nella mente. E queste impronte nella mente poi si manifesteranno come ansia, come tensione, a volte prenderanno proprio corpo in vere e proprie malattie. Si è visto che le persone, ad esempio, sono molto tesi, hanno problemi molto grossi, tendono ad ammalarsi più facilmente. Ci fu un ricordo quando morì Enzo Tortora di un tumore che molti sostenero e quel tumore gli era venuto a causa di quella profonda ingiustizia che Tortora aveva subito. E allora queste, dicevo, i nostri pensieri, le nostre azioni anche, lasciano come delle impronte nella mente. E queste impronte poi influiscono attraverso le dinamiche dell'inconscio, attraverso le dinamiche del karma anche, sui pensieri e sugli stali d'animo che avremo successivamente. Perché, care amiche e cari amici, i problemi non sono altro che creazioni della mente. Se la nostra mente pensa a un problema e decide che non riusciremo a risolvere, noi non riusciremo a risolverlo quel problema. Dunque, se nella nostra mente è presente la causa di un problema, molto probabilmente tenderà anche a verificarsi questo problema se non purifichiamo la nostra mente. in altre parole se esiste una causa interiore di un problema si verificano anche le cause esteriori perché guardate che gran parte del nostro modo di agire è determinato da ciò che pensiamo e dunque da ciò che è nella nostra mente. gli ostacoli esteriori possiamo dire che sorgono da quelli interiori gli ostacoli esteriori sorgono da quelli interiori così come i problemi esteriori sorgono dai problemi interiori perché è così anche le condizioni esteriori di un problema sono frutto della mente e allora i fattori esterni diventano poi le condizioni di un problema per una causa interiore insida nella mente quindi vedete è tutto un circolo dove si creano problemi ma tutto questo parte dalla mente comunque se non esiste alcuna causa interiore anche se vi fosse la presenza di fattori esterni questi non potrebbero diventare cause del problema tant'è vero che la stessa situazione per una persona è un problema e per un'altra persona non è un problema e che vuol dire questo? che conta moltissimo l'interpretazione di quella determinata situazione come ci proponiamo rispetto a quella determinata situazione e cosa passa nella mente rispetto a quella determinata situazione vi posso portare un'esperienza personale perché io ad esempio da adolescente ero timidissimo avevo una timidezza che mi bloccava era paralizzante mai sarei riuscito a fare un video di questo tipo perché avrei avuto paura del giudizio degli altri di sbagliare e così via e adesso invece le cose sono cambiate e perché? perché non mi pongo più quei problemi è tutta una questione di come si interpreta la realtà cosa passa nella nostra mente se c'è la convinzione non riesco a farlo questo video perché sono timido e poi non ci si riesce se invece non ci si pone più il problema se si dice vabbè se sbaglio pazienza che succede ho sbagliato sbaglio si sbaglia gli esseri umani sbagliano sbaglio pure io che problema c'è e così le condizioni esteriori di un problema sono frutto della mente i fattori esterni diventano le condizioni di un problema per una causa interiore nella mente come ho detto però appunto come nell'esempio che vi ho appena fatto la causa interiore conta moltissimo nella relazione con le situazioni esterne spesso è causa dei nostri problemi all'esterno e allora senza un ostacolo interiore non può esistere alcuno ostacolo esteriore a volte anche ci sono persone che affrontano delle malattie terribili alcune le affrontano serenamente altre con la disperazione per esempio sentivo l'altro giorno un medico che parlava del tumore della pelle e diceva che questa prolungata esposizione al sole soprattutto nell'orario centrale della giornata e così può essere la causa di questo tumore della pelle però parliamoci chiaro se la luce solare fosse la causa principale di quel tumore chiunque si sottoponesse al sole in quelle ore dovrebbe sviluppare quel tumore invece non è così non è che tutti quelli che sono abbronzati neri e prendono quanta gente si vede in spiaggia che prende il sole nelle ore proprio più deleterie e poi non è che tutti sviluppano il cancro della pelle allora sì possiamo affermare che l'esposizione al sole è una causa del tumore della pelle ma non è la causa principale e stiamo nel discorso interno perché la gran parte anche delle malattie nascono nella nostra interiorità le cause di grandissima parte delle nostre malattie sono nella nostra mente anche l'aggravarsi va bene delle malattie è nella nostra mente esattamente come il guarire come l'esempio dell'effetto placebo che vi ho fatto prima l'effetto placebo si trova nella nostra mente non è che si trova nella pasticca che prendiamo ma nella convinzione che quella pasticca fa effetto magari è semplicemente uno zuccheretto allora bisogna ricordarla questa cosa la causa fondamentale dei nostri problemi si trova nella nostra mente nel nostro modo di pensare negativo e allora la pratica la disciplina quotidiana correggere queste dinamiche correggere queste dinamiche attraverso il silenzio l'osservazione perché allora comincieremo ad armonizzare la nostra mente e svilupperemo il giusto modo di pensare e quel modo di pensare conduce a un'armonizzazione che la porta ad accesso per la felicità allora possiamo dire che il modo sbagliato di pensare porta alla sofferenza il pensiero invece quando non è compulsivo contribuisce alla armonia della nostra interiorità quando il pensiero è incontrollato va bene soffriremo necessariamente ci porterà a situazioni di sofferenza quando invece il pensiero è armonizzato perché la mente è armonizzata dalla disciplina e allora un po' alla volta i nostri problemi si attenueranno fino a svanire anche e così possiamo affermare che felicità e sofferenza provengono dalla nostra mente ed è la nostra mente che modella la nostra esistenza e da qui l'importanza della pratica l'importanza della disciplina l'importanza di non lasciare la nostra mente con i suoi impulsi incontrollati le sue associazioni di idee come fanno le persone ordinariamente che passano un'intera vita vittime della schiavitù di questi processi mentali e noi dobbiamo lavorare su noi stessi nella consapevolezza che la felicità e la sofferenza derivano dalla nostra mente e che la meditazione è la chiave essenziale della guarigione la meditazione è la chiave essenziale per l'armonizzazione della nostra mente e questo noi ce lo dobbiamo avere chiaro cari amici e cari amici dobbiamo averla chiara questa cosa la meditazione è una vera e propria panacea la meditazione ha un potere di guarigione enorme e tutte le nostre malattie e anche fisiche sono aggravate dal pensiero negativo che associamo ad esse non sto dicendo attenzione anche quando parlerò di guarigione di malattia evitiamo subito un fraintendimento non è che sto dicendo che poi una mente purificata non si ammala mai nel senso assoluto anche perché se vediamo i grandissimi maestri come Ramakrishna come Ramana Marci come lo stesso Nisargadatta sono morti poi di morti terribili no? con malattie terribili quindi non è questo però indubbiamente come è dimostrato ad esempio dall'effetto placebo che vi facevo prima anche le stesse malattie possono essere aggravate dal nostro atteggiamento mentale bene e sapere che felicità e sofferenza derivano dalla nostra mente e che la meditazione è la chiave della nostra guarigione è fondamentale per armonizzare noi stessi di conseguenza la meditazione è l'unico modo per eliminare la causa della sofferenza e cominciare a creare l'armonia in noi perché non è che possiamo ottenere questo risultato continuando a cercare nel mondo esteriore dobbiamo ottenerlo per mezzo della nostra mente e questo vale anche per le medicine se una persona sta male ovviamente le medicine vanno prese per fortuna che ci sono però anche lì puntare tutto sulla medicina tutto su una pasticchetta tutto sull'estero è sbagliato quindi a scanso di oculici non sto dicendo che è sbagliato curarsi e prendere le medicine assolutamente le medicine vanno prese sono una grande benedizione esistono e curano moltissimi mali adesso le medicine ma vanno accompagnate da un corretto atteggiamento mentale e allora le stesse medicine faranno più o meno effetto a seconda della nostra armonizzazione della nostra mente armonica o compulsiva potremmo affermare che utilizzare unicamente un farmaco va bene si può guarire la malattia ma non è sufficiente per guarire la mente e allora invece attraverso la mente noi armonizziamo cioè attraverso scusate i miei amici attraverso la meditazione noi armonizziamo la mente e aiutiamo anche le nostre guarigioni anche le nostre malattie questo è il vero rimedio perché nella meditazione le nostre qualità positive diventano veramente una medicina interiore perché noi attraverso la meditazione e attraverso la semplice osservazione noi curiamo la mente la armonizziamo e curiamo quella mente che è la causa di tutti i nostri problemi quindi armonizzare la mente significa andare verso la risoluzione dei nostri problemi per una guarigione reale è necessario sviluppare le qualità positive della mente che non nulla hanno a che vedere col pensiero positivo americano con queste stronzate questo sia ben chiaro io sto parlando di armonizzazione della mente attraverso la meditazione di forzature di un pensiero positivo che poi rigetta il pensiero che si rimuove nell'inconscio e si fanno ancora più disastri sono tutte le americanate che ci arrivano le mode il pensiero positivo la più grande idiozia di questi ultimi decenni una meditazione è l'antidoto per guarire realmente bisogna sviluppare le qualità positive della mente perché questo aiuta il processo di guarigione sia di guarigioni psichiche che di guarigioni fisiche e alcuni modi di pensare creano pace alcuni modi di pensare creano salute altri invece creano disturbo e creano malessere e come nel caso di Tortola di cui vi parlavo possono aggravare le malattie se non provocare la malattia ma questo adesso lo riconoscono anche i medici i medici della medicina ufficiale occidentale di quanto la componente mentale un atteggiamento negativo rispetto alla malattia contribuisca ad aggravare questa malattia e invece l'armonizzazione della mente crea salute aiuta a guarire aiuta anche a prevenire le malattie di questo non ci si rende conto essere in una situazione di equilibrio di armonia sviluppare una visione positiva della vita non perché ci si forza al pensiero positivo ripeto ma come spontanea conseguenza della disciplina tutto questo serve anche da preventivo rispetto alle malattie perché le malattie come molti altri problemi della nostra vita sono provocati da menti negative una mente negativa crea disturbi rende infelici e ovviamente questa infelicità si 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 proietta sul corpo no possiamo dire che una mente negativa contribuisce ad un corpo malato e la meditazione non solo cura la malattia ma crea una grandissima pace nella nostra mente ci rende calmi ci rende rilassati e così ci aiuta a sviluppare pensieri di compassione perché poi come dirò in un prossimo video la compassione è un altro passo fondamentale per armonizzare e per guarire per un'efficace guarigione l'atteggiamento di compassione desiderare che gli altri stiano bene che gli altri ottengano la felicità è un altro una cosa importantissima voler condividere con gli altri cos'è la compassione in fondo la compassione è il desiderio che gli altri non soffrano più ed è incredibile a volte come quando ho aperto il canale del decimo toro ero molto scettico ma funzionerà uno strumento come il computer per insegnare la meditazione e così no e invece ho visto che è incredibile io insegno la meditazione sul decimo toro tutti sanno in modo totalmente gratuito perché io sono come Dante che mette Simon Mago nell'inferno nei simoniaci coloro che fanno commercio di spiritualità non mi faccio pagare da cosa sono mosso è incredibile come molte persone quando sanno che non mi faccio pagare subito pensano ci sarà qualcosa sotto non c'è nulla sotto c'è semplicemente il fatto che un medito è da 35 anni e dopo 35 anni di meditazione si sviluppa una meditazione sana ti fa sviluppare la voglia di far star bene anche gli altri è una cosa naturale spesso questi atteggiamenti sono relegati a no solamente a piccole sfere non la nostra famiglia la nostra con la meditazione questi questi confini si dilatano e quindi ti farebbe piacere che stiano bene anche che ti fa piacere se stanno bene anche le persone sconosciute che non conosci dice ma che finalità c'è Dio nessuna finalità è bello far star bene le persone ed è incredibile come ci si è ristretti dentro la nostra società si è solidificato l'ego ancora di più che non in altri tempi nella modernità l'adorazione del Dio cazzi miei e quindi sembra quasi impossibile che qualcuno possa agire semplicemente perché è bello fare del bene agli altri è bello fare del bene agli altri è bello ascoltare una buona musica che piace è bello osservare un tramonto è bello fare del bene agli altri perché stai lì a osservare il tramonto perché perché è bello osservare un tramonto perché una rosa sboccia e inonda del suo profumo tutto ciò che lo circonda perché è nella sua natura e a forza e a forza di meditare nella nostra natura nasce questo elemento di compassione che ti fa avvertire che è bello far star bene gli altri è bello perché è bello farlo amici datemi retta donate agli altri appena avete qualcosa donate agli altri è bello donarsi agli altri e questo si riassume in una sola parola compassione un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo